Per favorire la socializzazione dei pensionati, il sindacato Spicigelle di Reggio Emilia organizza periodicamente visite guidate nei luoghi e nelle città storiche per far conoscere da vicino l'arte, la cultura e il passato del nostro bel paese. Oggi siamo qui a Soncino, in provincia di Cremona, con i pensionati dello Spicigelle di Reggio Emilia in un ambito di programma di gite che ci consentono di valorizzare l'aspetto anche aggregativo della nostra organizzazione e di favorire la socializzazione dei nostri iscritti. Soncino, in provincia di Cremona, è stato denominato uno dei borghi più belli d'Italia. È un vero e proprio museo a cielo aperto dove storia e cultura hanno lasciato importanti tracce ed è possibile fare un tuffo nel passato. Dall'alto della Rocca spicca la Filanda Meroni, una costruzione di colore giallo molto grande, oggi Museo della Seta. Fabrizio Fontana, studioso ed ex docente di storia dell'arte e volontario del sindacato pensionato di Spicigelle, ci ha guidato in questa visita. Poiché Soncino era assoggettato a Venezia, quindi Marco Polo, pensiamo le Repubbliche Marinare o quant'altro c'era allora e qui si produceva molto a livello di seta, con i bacchi da seta e il james e via dicendo. Molto particolare a Soncino è la Casa degli Stampatori, dove fu sfornata la prima Bibbia ebraica. In questo luogo sono esposte alcune macchine da stampa manuali della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Soncino, che annovera il primo museo della stampa, dove una famiglia ebraica, i Soncino, famiglia di Natael, allievo di Gutenberg, aprì qui la prima stamperia a caratteri immobili dove vennero stampati i primi libri. Lasciato il borgo di Soncino, ma restando nella provincia di Cremona, decidiamo di fare tappa a Castelleone, dove fuori dal centro abitato, nella campagna, ci fermiamo per una visita alla chiesa di Santa Maria Bressanoro. La chiesa si presenta come Tardo-Gottica, un'opera attribuita al Filarete, che è del 1460-70, architetto toscano, di impronta quasi bramantesca, ha realizzato questa chiesa a pianta croce greca. L'attuale complesso religioso fu finanziato nel 1460 grazie al sostegno della Duchessa di Milano, Bianca Maria Visconti, e dei fedeli del luogo. Di grande interesse all'interno della chiesa anche gli affreschi. I pittori lombardi del Tardo-Gottico, ispirandosi a Leonardo e anche ai Vangeli, agli scritti apocri più o meno, hanno illustrato nelle pareti, come un libro, come tante pagine aperte, queste scene della Passione di Cristo e anche la vita di Maria scesa al cielo. La visita culturale dello SPIGGL si conclude con la tradizionale foto di gruppo. Ora ciascuno dei partecipanti porterà a casa nuove conoscenze e una bella esperienza da raccontare. Come SPIG contiene questa nostra esperienza nella conoscenza dei territori e anche delle culture. Queste iniziative ci permetteranno anche di avvicinare tantissimi compagni che non fanno una vita politica attiva, ma sono incuriositi da questa esperienza e questa iniziativa.